Sto vedendo questi disegni bellissimi fatti da questo signore molto bravo e poi è la coronazione di tutto un bellissimo raduno di personaggi che si ricordano di Tito Acerbo e di Giacomo Acerbo. Cioè il titolo eroe è Giacomo Acerbo, l'uomo grandiosamente vissuto tra fascismo, monarchia, repubblica, ha avuto il premio dell'uomo che ha fatto un sacco di cose bellissime e ha ricevuto la medaglia d'oro per l'istruzione. Quindi questo dà segni che era ormai il Presidente della Repubblica italiana. Si è concluso adesso l'incontro sul novantesimo della provincia di Pescara, ci sono stati interessanti interventi, abbiamo ricordato delle figure che oramai sono consegnate alla storia, Tito Acerbo, Giacomo Acerbo, Gabriele D'Annunzio, abbiamo ricordato degli eventi che altrimenti rischierebbero di essere dimenticati. Voglio ricordare che questo è stato organizzato, questo evento è stato organizzato dal Rotary Club Vestini Penne Loreto. Ovviamente il tutto è stato reso possibile dalla disponibilità dell'amministrazione comunale di Loreto che ci ha consentito di utilizzare addirittura la sala consigliare. Veramente sono soddisfatto di questo evento.